ciclo di incontri organizzato dal Movimento Federalista Europeo Italiano nell'ambito del progetto Crossroad Europe e questa sessione si occuperà di città e comunità sostenibili, io sono Federico Tosi, modererò la sessione, sono segretario della Gioventù Federalista Europea dell'Emilia Romagna. Allora lascio subito la parola alla segretaria UEF, Anna Etertoff, prego Anna, parlerà in inglese nonostante il suo italiano sia di livello, prego Anna. Thank you very much, dear Presidente Anselmi, dear Secretary General Luisa Trumellini, dear panelists, dear participants, buongiorno, scusa per non parlare in italiano, io ho promesso di fare in italiano la prossima volta, grazie. First of all, I would like to convey the greetings of our President of UEF, Sandro Gosi, who is not able to participate in this event today, but he sends his regards and wishes us a very good discussion. With this series of events, I had the possibility to take part in the first event, we picked up what we call a future topic, which is of high importance, not only for the EU, but also worldwide. And it's not a single topic which you discuss as one policy, but it's a topic which has an impact on several other policies. It's cross-sectoral, I would say. And I think this series of events showed the several aspects we discussed from climate refugees in the first session, which was mentioned, then health and work related issues to sustainable cities and also the last session today on the answer of the EU on all of this. It's really of high importance. And we as citizens, we must enter into the debate and also among us to create a European citizenship relationship and to engage ourselves into the dialogue. We as UEF, together with our member sessions, we would like to enter in a dialogue on these fields. We created a working group that is going to prepare something for the COP26 in November for these on these issues. But we as UEF would like to have also or to use these kind of events in the CROSSRUG-ROS framework, but also in the other EU events to closer connect our member sections and to enter into a European-wide debate on that in the light of a good development of our of our association UEF because we have also, how to say, a good basis for the discussion. And last but not least, I would like to thank or to use this opportunity to thank the European Commission, especially the EAD-Shea that is co-financing the series of events with this Europe for Citizens program, which is really a very good tool for us as UEF and for the member sections to make these kind of events possible. I wish us a very good discussion and I'm looking forward to it. Thanks a lot. Grazie mille Anna. Magari faccio due parole in italiano se qualcuno non parla inglese. Dunque, Anna innanzitutto, che è segretaria del UEF, ha tenuto a sottolineare come l'argomento trattato è intersezionale, quindi ha ripercorso un po' le tappe che abbiamo fatto con queste tre giornate, parlando prima di migrazioni, fino ad arrivare oggi alle città. e ha ribadito poi l'impegno del UEF per la COP26 e ha detto poi che un altro obiettivo di questo ciclo è proprio la connessione tra i nostri membri, tra i vari membri del UEF e ha finito ringraziando la Commissione Europea che è co-finanziatrice di questo evento. Quindi ringrazio ancora Anna per il prezioso intervento e direi di iniziare subito nel vivo della sessione. Grazie mille, innanzitutto come giovani federalisti europei dell'Emilia Romagna siamo veramente onorati di partecipare a questa sessione che si concentra proprio sul ruolo delle città. Noi è da un anno che facciamo un ragionamento particolare proprio sull'importanza storica che in questo momento le città e in particolare le nostre comunità stanno avendo per lo sviluppo sociale, politico e economico del nostro mondo e in particolare abbiamo capito insomma in questo anno di dibattito che le città si stanno trasformando in veri incubatori di innovazione sotto veramente tantissimi aspetti e possono essere veramente la chiave per affrontare i fenomeni del futuro e ovviamente il fenomeno forse più importante da affrontare è quello del cambiamento climatico sicuramente il più urgente e quindi nella sessione di ieri parlavamo della necessità di compiere una rivoluzione proprio di approccio per combattere questo fenomeno e noi pensiamo che questa rivoluzione debba proprio partire dalle città, alla fine le città sono le istituzioni più prossime, più vicine al cittadino sono quelle che con le loro politiche pubbliche cambiano la nostra vita, i nostri quartieri, le nostre strade, le nostre famiglie e quindi è per noi veramente molto importante essere qua e spero veramente sia un'occasione di spunto e di dibattito per tutti e introduco subito i nostri tre ospiti, sono tutti e tre di altissimo livello quindi sono veramente contento di poterli presentare e il primo ospite che abbiamo è Gianni Bottalico che è responsabile delle relazioni con le regioni e i comuni dell'ASVIS poi abbiamo Vanessa Nobile che è avvocata associata allo studio legale Herbert Smith Free Hills, spero di averlo pronunciato bene e lei sta nella sede di Milano e a livello scientifico collabora sia con la Cattolica di Milano che con l'Università di Pavia e poi abbiamo Sara Chinaglia che è dottoranda qui all'Alba Mater di Bologna e nel programma di dottorato di Climate Change ora cedo subito la parola a Gianni che ci introdurrà un po' al tema e soprattutto sottolineerà l'importanza di fare squadra di fronte a questo tipo di fenomeno prego Gianni grazie, buongiorno, buongiorno grazie dell'invito è sempre importante partecipare e non è una frase fatta, è importare questi momenti e spiegherò anche proprio in questi miei minuti per quanto importante e quanto forte anche questo coinvolgimento, questa relazione di reciprocità che abbiamo Baki Moon nel 2012 disse una cosa molto bella, dice la nostra battaglia per la sanità globale sarà vinta o persa nelle città lo disse nel 2012 a New York e aveva visto giusto, ha visto giusto perché da questo punto di vista è evidente che come è stato già sottolineato questo forte cambiamento non può essere un cambiamento che può avvenire dentro gli stretti laboratori di qualche struttura politica ma deve calarsi nelle realtà territoriali e da questo punto di vista è un po' questa anche la stella polare che ha ispirato che conduce il nostro lavoro, quando dico nostro lavoro lo dico come alleanza per lo sostenibile che per chi non la conoscesse è una cosa unica a livello mondiale perché è un'associazione di associazioni che raduna più di 300 ormai organizzazioni di tutte le specificità dal mondo del lavoro sindacale, fondazioni proprio perché la nostra riflessione era mettiamo insieme le conoscenze le competenze, le esperienze, le presenze di tutti quanti possibili per costruire questo nuovo scenario e guardate proprio per aiutarci tutti quanti un po' nel capire il lavoro che dobbiamo fare perché questo è un lavoro comune, io vi indicerei due aspetti ed è un po' quell'esperienza che stiamo facendo come alleanza ed è l'esperienza nel quale il vostro protagonismo è fondamentale la vostra competenza è fondamentale, il vostro lavoro è importante la prima, noi abbiamo bisogno nonostante tutto di far crescere questa cultura della sostenibilità non è per nulla scontato, non è scontato oggi che nella politica, non è scontato che nelle amministrazioni comunali non è scontato oggi che nelle decisioni politici sia chiaro qual è la sfida che abbiamo davanti questo lo si evidenzia perché se voi chiedete alla gran parte dei sindaci oggi sul tema sviluppo sostenibile la grande maggioranza fa fatica a capire di cosa stiamo parlando è una cosa, è una colpa loro? No, diciamo che è una responsabilità di tutti noi di diffondere questa nuova cultura e dall'altra parte aiutare un po' questo percorso come vi siete posti voi e come fanno anche le due relatrici che dopo seguiranno e che ci spiegheranno meglio nei contenuti alcune azioni vedete il primo errore che è noto e che noi verifichiamo è che c'è appunto un approccio da questo punto di vista come se l'agenda 2030 fosse una lista di obiettivi l'agenda 2030 non è una lista di obiettivi, l'agenda 2030 è una scelta valoriale è un cambiamento culturale, è un cambiamento a smonti di prospettiva il professor Magatti della Trattolica dice che dobbiamo cambiare il paradigma rispetto a questo quindi è un'azione politica che richiama scelte politiche completamente diverse questo percorso oggi è ancora molto importante farlo perché questa cultura non c'è ed è una delle ragioni per cui noi abbiamo preso l'impegno per esempio di offrire a tutti quanti uno strumento per noi importante che quel rapporto che facciamo tutti gli anni sull'Europa e sull'Italia rispetto al posizionamento, gli obiettivi dell'agenda 2030 dei vari paesi e abbiamo deciso questa volta per la prima volta di condurla nel futuro sui territori abbiamo fatto un rapporto ad hoc che voi trovate sul nostro portale asvis.it tutto dedicato alle regioni, alle province, alle città metropolitane, alle aree interne proprio perché da questo punto di vista vogliamo offrire a tutti uno strumento importante per comprendersi, per leggersi e per capire dove si deve assolutamente andare e quindi da questo punto di vista come dire credo che questo sia un passaggio, un lavoro importante che si fa perché abbiamo bisogno come ho detto prima di cambiare questa cultura vedete io dico sempre ai sindaci perché a volte ci sono i sindaci di mille abitanti giustamente che ci chiedono ma scusate ma fammi capire ma io che sono un sindaco di un piccolo comune che cosa, come io posso essere coerente rispetto alle grandi sfide che cosa posso fare io piccolo comune? Ecco, da questo punto di vista ancorché credo che noi dobbiamo in questo momento aiutare anche i sindaci a cambiare un po' da questo punto di vista il loro paradigma incominciare a guardare anche le proprie politiche questo può riguardare sia i paesi, le grandi città ma anche i paesi piccoli in una maniera diversa, uscire dei vecchi schemi e incominciare invece, l'Europa da questo punto di vista ci aiuta molto a ragionare su schemi e su classificazioni diverse incominciare a classificare le mie scelte politiche le mie decisioni politiche sulla base di una diversa categoria incominciare a pensare a politiche che proteggono incominciare a pensare a politiche che promuovono l'Europa ce le chiede, che preparano, che prevengono, che trasformano cioè incominciare a ragionare con quel nuovo paradigma incominciare a interrogarsi se ciò che sto facendo risponde a questi requisiti e come e quando risponde a questi requisiti già questo passaggio sarebbe estremamente importante io dico anche molto banalmente ma se incominciassimo anche nelle nostre amministrazioni comunali tanto per essere anche molto concreti incominciare a uscire dal concetto, assessore all'urbanistica assessore ai servizi sociali incominciassimo a ragionare sulla base di quello che sono l'agenda, quel cambiamento di culturale che l'agenda ci chiede io credo che anche questo incomincierebbe ad aiutarci a uscire da un pensiero molto settoriale nel quale siamo cresciuti a un pensiero più intersettoriale, più ampio che è quello che ci chiede l'agenda 2030 di fare ossia un pensiero sistemico un pensiero sistemico che guida tutte le politiche le politiche che hanno un impatto sul piano economico sul piano ambientale e sul piano sociale oggi pensare che queste grandi macro aree non siano assolutamente fortemente collegate è un errore madornale porto sempre l'esempio di un'esperienza che stiamo facendo Taranto a Taranto è molto semplice a Taranto c'è un problema che è grande come la casa è l'ILVA la chiudiamo e mettiamo in ginocchio sul piano economico la città la lasciamo in quelle condizioni e facciamo morire le persone ma dov'è la soluzione? capite che noi non possiamo prendere soluzioni soltanto a un senso unico dobbiamo tener conto fortemente di questo e questa è la complessità e la difficoltà quindi un pensiero da questo punto di vista di carattere culturale che dobbiamo portare avanti per cambiare un po' la mentalità e dall'altra c'è un'altra grande sfida e qui l'associazione civile tutti quanti noi abbiamo anche qui avremo con una M avremo delle responsabilità da mettere in campo voi sapete che l'Europa investirà molto nel nostro paese investirà molto su politiche di cambiamento abbiamo bisogno da una parte di individuare i contenuti e questo è fondamentale ma l'altra gamba importante sarà il modello di governance di come spendiamo quei soldi e qui il protagonismo dei territori è fondamentale la preparazione le scelte strategiche che i territori vorranno mettere in campo saranno fondamentali a questo punto di vista perché non saranno come sarà fondamentale e questo come ASVIS lo stiamo chiedendo a gran voce che questo processo di governance veda, coinvolga le città le regioni, le città metropolitane ma coinvolga anche i protagonisti che sono chiamati a costruire questo cambiamento ossia vogliamo chiamare l'associazione civile? vogliamo chiamarli stakeholder? chiamiamoli come volete ma sono i protagonisti che ci sono nei nostri territori le comunità allora da questo credo che un po' il nostro lavoro e il lavoro comune dobbiamo fare un po' da questo punto di vista proprio questo accompagnare questo processo di cambiamento sul piano culturale incominciare ad aiutare a costruire politiche assolutamente nuove come quelle che abbiamo già detto e indicato anche qui vi rimando sempre al nostro portale ASVIS se volete fare degli approfondimenti e dall'altra e dall'altra come ho detto anche questo nuovo protagonismo e questa nuova come dire anche responsabilità che noi abbiamo chiudo semplicemente con questo passaggio e riguarda tutti quanti noi ecco come ho detto prima e prima Federico lo ha ricordato come alleanza noi stiamo facendo anche un grande un lavoro che se non è importante quello di preparare proprio le comunità a questo processo accompagnandole cercando e dal nostro punto di vista di mettere a loro disposizione le conoscenze ma dall'altro anche offrire ai territori la possibilità di entrare in rete di mettersi in rete di fare un po' il lavoro che voi state facendo e quindi stanno nascendo a livello regionale tante chiamiamole ASVIS territoriali in Emilia Romagna è nata qualche giorno fa è nata in Liguria è nata sta nascendo in Toscana sta nascendo un po' in Toteco proprio perché come ho detto questi due queste due queste grandi sfide culturali e consentitemi anche di gestione ci devono trovare tutti quanti pronti e in termini contenuti in termini di protagonismo dobbiamo essere pronti ad affrontare questa grande responsabilità quindi ecco perché mi permetto di dire che questo vostro incontro oggi ha un valore molto molto importante perché è perfettamente coerente con questo percorso e risponde secondo noi a quella responsabilità a quel nuovo esercizio di responsabilità a cui tutti quanti noi siamo chiamati per cambiare questo nostro paese io mi fermerei qui perché credo di rimanere in dieci minuti e quindi lascio la parola alle cose sicuramente interessanti che poi ci diranno Sara e Vanessa grazie dell'invito grazie grazie a te Gianni interessantissimo interessantissima introduzione che ci insomma ci dà la carica anche no per quello che stiamo facendo anche come federalisti non siamo diciamo del prettamente del settore però è ugualmente importante insomma il nostro compito come società civile come dicevi quindi grazie veramente e passiamo a Vanessa Nobile adesso e sia Vanessa che Sara ci porteranno due esempi diciamo concreti e innovativi di come le comunità possono fare la differenza nella lotta del cambiamento climatico e Vanessa ci parlerà di Energy Communities e vai Vanessa insomma dieci minuti per introdurci un po' il tema grazie grazie Federico buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito a partecipare a questo interessantissimo evento sulla sostenibilità oggi voglio concentrare l'attenzione sulle comunità energetiche che sono un fenomeno del tutto nuovo nella filiera dell'energia e sono state introdotte con la direttiva REDD2 quindi la direttiva europea sulla promozione dell'energia rinnovabile la direttiva REDD2 nel promuovere appunto l'energia rinnovabile dà un chiaro indirizzo agli stati membri cito testualmente e dice le autorità competenti a livello nazionale regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile quindi quello che si vede delineare dalla direttiva REDD2 e poi ma anche concretamente quello che stiamo vivendo nella fase pandemica e quella che sarà anche la fase post pandemica è una sorta di decentramento anche della richiesta di energia e anche quindi nella capacità di approvvigionare questa richiesta di energia nell'era della pandemia abbiamo visto che ci sono stati molti spostamenti dalle grandi città ai piccoli centri quindi anche la domanda energetica è di molto cambiata oltre a essere di molto calata in certi momenti quindi un modello dobbiamo essere capaci di transitare da un modello accentrato di produzione energetica un modello accentrato e soprattutto che utilizza i combustibili fossili ancora per la maggior parte verso un modello rinnovabile di energia pulita soprattutto decentrato dove anche i piccoli comuni e le piccole comunità siano in grado di autoprodurre e autoprobigionare le energie di cui hanno bisogno in che modo gli enti locali e gli enti territoriali possono essere d'aiuto e possono avere anche un peso decisivo nello sviluppo delle comunità energetiche innanzitutto perché la normativa si rivolge direttamente anche alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali non solo ai clienti finali e alle piccole e medie imprese o alle imprese in generale quindi quello che a noi interessa è che il comune l'ente locale l'ente territoriale deve essere capace di cogliere quale può essere una sorta di intersecazione tra le finalità dell'ente locale in quanto pubblica amministrazione e le finalità della comunità energetica ora per farvi capire questo breve passaggio riprenderò ancora una volta le norme e la comunità energetica così come definita dalla direttiva RED2 è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria e autonoma ed effettivamente controllato da azionisti e membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione questo è un elemento importante i cui azionisti sono persone fisiche pubbliche e medie imprese piccole e medie imprese o autorità locale comprese le amministrazioni comunali soprattutto il terzo punto ci dice che le comunità energetiche devono avere l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali economici e sociali a livello della comunità ai suoi azionisti ai membri alle aree locali in cui opera piuttosto che profitti finanziari quindi già nella definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono espressamente chiamate ad avere un ruolo attivo e il dibattito che c'è stato finora è stato un dibattito prettamente economico perché quando si è parlato di comunità energetica finora si è parlato soprattutto si sono fatti calcoli per capire quale potessero essere i tempi di ritorno degli investimenti o quale potesse essere l'impatto degli incentivi nazionali o locali invece nel momento in cui la direttiva ci dice che la comunità energetica deve perseguire un obiettivo soprattutto sociale o ambientale è in questo momento che ci troviamo ci intersechiamo incrociamo la strada degli enti locali l'ente locale deve promuovere il bene comune deve fare l'interesse dei cittadini quindi l'utilizzo di forme di comunità energetiche possono essere d'aiuto all'ente territoriale all'ente locale proprio per perseguire degli obiettivi di socialità e di solidarietà che travalicano quelle del mero approvvigionamento energetico che è pure importante perché ricordiamo che ci sono dei comuni che si sono posti degli obiettivi grandissimi di perseguimento di produzione di energia per quanta è la domanda della comunità quindi di poter essere in una situazione di totale equilibrio tra il prodotto e il consumato ed è proprio questo che intendono fare le comunità energetiche nella comunità energetica il consumatore non è solo consumatore ma è produttore è prosumer quindi sia produttore energetico che consumatore il comune l'ente territoriale già nei giorni nostri gli enti locali sono portati ad operare nel campo dell'efficienza energetica sono molti gli incentivi che sono posti sia dal MISE sia dalle singole regioni perché i comuni attuino dei progetti di efficienza energetica proprio in questi progetti di efficientamento energetico si possono collocare delle comunità energetiche quindi l'installazione di questi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel comune può servire appunto per soddisfare la domanda di energia da parte dei singoli cittadini ma non solo se pensiamo al fenomeno anche della povertà energetica ci sono cittadini che non sono in grado di soddisfare la propria domanda di energia e finora quello che è stato fatto dalle comunità territoriali dagli enti locali è stata sempre una sorta di sussidio diretto il solito rimborso sulla bolletta elettrica quindi quando viene dimostrato l'incapacità di poter provvedere ai propri bisogni quindi un reddito molto basso il comune o la regione interviene dando dei sussidi diretti ecco la comunità energetica potrebbe come prima cosa venirci incontro in questi in questi contesti quindi si potrebbe sostituire il pagamento diretto della bolletta con un accesso diretto e agevolato all'energia prodotta dalla comunità ci sono già degli esempi di social housing in cui non solo viene fornito alloggio ma vengono forniti anche delle quote di energia che viene prodotta magari mediante l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto ancora è molto più rilevante quando pensiamo al ruolo che viene svolto dai comuni nel settore dell'associazionismo pensiamo allo sport finora i contributi comunali si sono sostanziati soprattutto nel fornire in concessione degli edifici dei campi di calcio dei campi di basket ma pensiamo a quanto sarebbe più utile invece porre sui tetti il fotovoltaico o comunque far alimentare quel singolo edificio da una fonte di energia che è della comunità stessa i costi sarebbero abbattuti e l'associazione la singola associazione riceverebbe comunque un contributo che è molto più valido da parte dell'amministrazione non solo cioè sono mille le funzioni che possiamo immaginare anche la riclassificazione di determinate aree urbane o il sostegno magari a nuovi centri artigianali nuovi centri commerciali ma la cosa che dobbiamo anche pensare è che di solito anch'io l'ho fatto negli esempi quando si pensa all'impianto di produzione rinnovabile vicino alla comunità si pensa di solito al fotovoltaico sì il fotovoltaico è di sicuro quello più utilizzabile quello più semplice anche se vogliamo da un punto di vista autorizzativo da installare però potremmo installare qualsiasi tipo di impianto di produzione da fonte rinnovabile anche fonti anche produzione da fonti come le biomasse o dai gas di discarica gas residuati biogas questo non solo ci inserirebbe ancora di più in un circolo energetico quindi una sorta di economia circolare dell'energia ma ci aiuterebbe a combattere e a spiegare alla comunità anche che l'energia non è non ha sempre anzi dell'energia rinnovabile quasi mai ha degli impatti negativi sull'ambiente circostante quindi potremmo usarlo anche per superare il cosiddetto fenomeno NIMBY quindi l'opposizione da parte delle comunità all'installazione nei propri centri degli impianti di produzione quindi quella delle comunità energetiche è una sfida da sostenere i comuni devono saper cogliere devono essere in grado di cogliere l'importantissimo ruolo che possono rivestire in questo contesto e devo dire che come Italia stavolta siamo i pionieri d'Europa perché la direttiva può essere può essere recepita il recepimento totale è fissato per giugno 2021 però l'Italia è già semmossa con la legge 8 del 2020 che è la legge di conversione del mille proroghe e poi con i decreti d'attuazione con l'intervento dell'ARERA dell'autorità di regolazione per l'energia quindi anche se il recepimento totale l'iter di recepimento e di regolamentazione di tale istituto non è formalmente concluso si è potuta si è potuta costruire un'infrastruttura normativa che permette già delle sperimentazioni sul campo e quindi in questo caso siamo noi il laboratorio d'Europa e i comuni si stanno veramente muovendo abbiamo già degli esempi per esempio abbiamo il comune di Turano Lodigiano il comune di Ragusa il comune di Biccari e di Rosseto Valfort entrambi in provincia di Foggia la regione Puglia ha già avviato le linee guida per le comunità energetiche stessa cosa la regione Piemonte e la regione Liguria quindi effettivamente sul territorio sia le regioni nel delineare le linee guida la normativa di contorno sia i singoli comuni nel iniziare a pubblicare degli avvisi pubblici per capire quali possono essere le manifestazioni di interesse a questi progetti a queste comunità energetiche che si stanno effettivamente muovendo quindi è un punto veramente positivo nel senso che l'Italia questa volta è davvero davanti agli altri paesi nell'implementazione di questo nuovo fenomeno bene sono stata perfettamente nei dieci minuti grazie grazie ancora grande Vanessa perfetto grazie mille anche della bella notizia finalmente nel senso possiamo definirci comunque all'avanguardia strano ma vero e passerei adesso a Sara che ci parla di risorse idriche e insomma il collegamento tra la scartità dell'acqua e la lotta a cambiamento climatico prima di dare la parola a Sara volevo ricordare che dopo il secondo giro di intervento ci sarà il dibattito e come nelle altre sessioni vi invito a prenotarvi nella chat o a scrivere direttamente la domanda nella chat e così poi insomma sarà più organizzato e vai Sara grazie buongiorno a tutti e grazie per l'invito parlare di questi argomenti non è mai abbastanza come ha anticipato appunto Federico nella presentazione io mi occupo di studiare policy e gestione del rischio in abito di cambiamento climatico e in particolare mi occupo di acqua di sorsa idrica parlare di acqua in un contesto di cambiamento climatico è tanto complesso quanto fondamentale soprattutto se leghiamo questo con le dinamiche dell'urbanizzazione quindi l'obiettivo nei prossimi minuti sarà quello di cercare di dare una visione di quali sono le problematiche legate all'acqua in un contesto di clima in continuo cambiamento e come queste si intrecciano con le dinamiche legate all'urbanizzazione e soprattutto capire perché sia importante studiarlo da un punto di vista con un'ottica europea come sappiamo ormai noto le proiezioni vedono la maggior parte della popolazione muoversi verso i centri urbani sicuramente il Covid avrà messo in discussione questo trend in che modo in che misura ancora non ci è dato sapere ma molto difficile che questo trend venga appunto capovolto pertanto è molto importante capire perché l'acqua è importante in un contesto di costante urbanizzazione prima di discutere quali sono gli sforzi che le città europee stanno effettivamente già portando avanti e l'importanza dell'Europa stessa è importante capire perché l'acqua è così critica la criticità dopo l'acqua deriva dal fatto che l'acqua è sia un pericolo che in pericolo il motivo per cui questa frase è vera può essere riassunto in due parole stress idrico con questo noi indichiamo una condizione temporanea di carenza di acqua in un determinato territorio che non deriva come molti erroneamente in modo semplicissimo e non a pensare da una mancanza di precipitazioni ma deriva da due fattori condizioni climatiche e fa bisogno idrico parlando delle condizioni climatiche sappiamo che il cambiamento climatico sta portando con sé molte conseguenze spiacevoli l'acqua non è protagonista quando si pensa al cambiamento climatico generalmente colleghiamo immagini come città sommersi uragani e tutto questo a che vedere con la modifica del sistema climatico che tramite meccanismi molto delicati si autoregola e che coinvolgono prevalentemente l'acqua l'alterazione del clima quindi sta portando a modifiche nelle precipitazioni sia in termini di intensità che di frequenza all'inalzamento del livello del mare e a una maggiore frequenza di eventi sistemi e se pensiamo che sono sempre più frequenti episodi di inondazioni o anche fenomeni meteorologici estremi banalmente anche semplicemente un temporale più forte se colleghiamo questo al fatto che la maggior parte delle metropoli dei centri urbani sorgono proprio in prossimità di acqua non tutti ma la maggior parte è facile raggiungere alla conclusione che è un pericolo l'altro fattore è quello del fabbisogno idrico che ci permette di capire perché l'acqua è in pericolo questo forse è il tema più spinoso e aggrovigliato noi sappiamo che l'acqua di fatto è presente in ogni attività produttiva per le quali sono necessarie anche in genti quantità e sappiamo che è alla base della vita umana quindi il fabbisogno idrico non dipende soltanto dalla quantità di acqua disponibile ma anche dalla qualità entrambe caratteristiche molto in pericolo l'Europa è particolarmente ricca d'acqua ma innanzitutto non è distribuita in modo omogeneo e soprattutto il fabbisogno di acqua in tutta Europa è costantemente aumentato negli ultimi 50 anni e non solamente a causa della crescita della popolazione ci sono ovviamente il fatto che l'acqua non si è distribuita in maniera omogenea porta ad avere degli stati che sono in costante stato di stress idrico come ad esempio Cipro la Grecia la Spagna e stati invece che si trovano ad avere un eccesso di acqua e devono cercare delle soluzioni per non mettere in pericolo le attività produttive e la vita delle persone c'è anche da ragionare sul fatto di chi consuma più acqua non in termini di stati ma in termini di attività produttive e per questo possiamo utilizzare la proporzione delle 60-30-10 dove ci fa capire che il 60% in generale ovviamente delle risorse idriche vengono utilizzate impiegate nell'agricoltura il 30% nell'industria con il comparto energetico che richiede molta acqua per la produzione di energia appunto e il 10% invece viene utilizzato dalla popolazione quindi semplicemente dai cittadini per le proprie attività quotidiane la crescita dell'agricoltura intensiva la crescita del fabbisogno energetico e soprattutto la crescita del consumo di carne hanno fatto sì che questo andasse ad incentivare ancora di più l'aumento e il consumo di il fabbisogno di acqua in tutta Europa altri elementi da considerare sono poi il come si impiega l'acqua non tutte le città come anticipavo prima sorgono vicino a centri vicino a disponibilità idriche pertanto questo richiede non soltanto per i centri urbani ma anche per i centri più al di fuori delle città la costruzione di infrastrutture idriche e questo pone il problema delle perdite nella rete idrica che in stati come ad esempio la Croazia raggiungono anche il 40% che si pensa è tantissimo una quantità di acqua sprecata molto elevata e oltretutto viene considerato il problema del fatto che quando l'acqua viene utilizzata dall'attività produttiva quant'altro la maggior parte viene restituita nell'ambiente circa il 60-70% e se anche questa sembra una notizia positiva in realtà c'è da considerare che l'acqua che viene restituita all'ambiente non sempre è pulita ma viene in qualche modo alterata dai pensi attivi pensiamo e quindi questo pone il problema che nei centri urbani dove c'è un'altra concentrazione di popolazione è importante prendere misure garantire la qualità dell'acqua che viene poi restituita all'ambiente è chiaro quindi che adesso la domanda sarà come fa una città a tenere conto di tutto questo abbiamo due parole chiave resilienza e integrazione la sfida delle città è quella di poter creare dei contesti urbani che riescono ad essere resilienti quindi adattarsi ai cambiamenti climatici tramite l'utilizzo sia di misure se vogliamo dire di prezzo quindi adeguando le tariffe sia utilizzando misure non di prezzo ossia comunicazione campagne di sensibilizzazione in questo modo raggiungere anche una mitigazione del cambiamento climatico quello che poi è importante capire è perché è importante studiare l'acqua da un punto di vista europeo per diversi motivi innanzitutto è importante capire il ruolo di leadership che l'Unione Europea non sa non soltanto nella protezione idrica ma nel più generale nella lotta contro il cambiamento climatico ciò che dal punto di vista diciamo didattico viene definito director leadership e structural leadership sono due termini molto importanti perché ci permettono di capire come si è approcciata l'Unione Europea alla lotta contro il cambiamento climatico se prima l'Unione Europea si poneva come precursore per ridurre non soltanto l'impronta ambientale interna ma anche per dimostrare ad altri mercati ad altri stati ad altre nazioni la fattibilità di queste misure questo è l'esempio del sistema cap and trade un sistema con cui si possono comprare per cui l'Europa è diciamo una paladina e si è passato poi a quella che viene definita structural leadership ossia l'Unione Europea adesso non soltanto è forte dalla propria esperienza e continua a porsi obiettivi sempre più importanti sempre più ambiziosi ma sfruttando il proprio potere nel mercato cerca di influenzare anche altri altri attori con cui si relaziona che siano questi mercati che siano questi stati o regioni del oltre Europa cerca di influenzare appunto questi altri attori ad adottare delle politiche ambientali coerenti e analoghe a quelle dell'Europa stessa pertanto capire come viene trattata la dinamica idrica all'interno dell'Europa significa capire non soltanto significa sapere che queste queste dinamiche non si limiteranno soltanto al mercato interno europeo ma potenzialmente si potranno espandere anche a tutti quanti quegli attori che vorranno in futuro continuare ad avere rapporti di cui l'Unione Europea un'altra piccola piccola grande cosa interessante è quello che l'Unione Europea sta vivendo all'interno geograficamente l'Unione Europea è molto diversa quindi gli impatti del cambiamento climatico vengono visti in maniera molto diversa dagli stati interni generalmente gli stati dell'Europa meridionale soffrono più che altro problematiche legate alle ondate di calore alla siccità alla desertificazione mentre i paesi all'attitudine più elevata soffrono di problematiche legate più che altro allo scegliamento dei ghiacci ovviamente questa è un'approssimazione molto estrema giusto per avere una un'immagine e oltre alla sfera geografica c'è anche il concetto di sfera psicologica all'interno dell'Unione Europea non non si può pensare di avere una popolazione che è tutta unita nella lotta contro il cambiamento climatico ci sono popolazioni più inclini a vedere il cambiamento climatico come un elemento pericoloso e popolazioni che lo sono di meno ad esempio all'interno dell'Europa abbiamo il Portogallo che è la popolazione che è più preoccupata nei confronti del cambiamento climatico e questo è molto importante perché indica una popolazione che verosimilmente è più propensa ad accettare politiche ambientali più severe e a mettere in discussione i propri stili di consumo mentre ci sono stati come ad esempio la Svezia che presenta un tasso di negazionismo se così possiamo chiamarlo riguardante di cambiamento climatico molto alto secondo solamente gli Stati Uniti che sappiamo vengono da degli anni di politica ambientale molto complessa e controversa diciamo termino qui il mio intervento iniziale sperando di aver dato una visione un po' un po' più chiara della problematica idrica ecco grazie mille Sara ti confermo che l'hai fatto e te ne sono grato e allora facciamo un secondo giro di interventi veloce volevo ricordare che in chat potete trovare il questionario di valutazione di questa sessione che ha gentilmente condiviso Marco e vi prego sarà ricondiviso a fine sessione se non erro quindi insomma fatelo che per noi è importante ora torniamo da Gianni Votalico di Asvis al quale chiedo un po' di farci una panoramica di come siamo messi in Emilia Romagna rispetto agli obiettivi di sviluppo e poi Gianni se vuoi approfondire un po' il coordinamento Emilia Romagna sostenibile 2030 che è accennato prima magari potrebbe essere interessante ti cedo la parola so che hai delle slide da farci vedere condividi pure lo schermo in teoria sei sì eccomi qua eccomi qua condivido lo schermo vediamo un po' eccolo qua spero che si veda credo riuscite a vederlo vero? sì 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 lo vediamo perfetto ecco semplicemente bene questo era questo è il era velocemente un po' la rappresentazione voi trovate anche sul nostro sul nostro portale della posizionamento dell'Emilia Romagna rispetto ai target al 2000 al 2000 è un errore al 2030 non al 2020 per la semplice ragione che avrei voluto farvi vedere anche questa velocemente indicativamente questa questa slide che riguarda noi tutti parliamo dell'agenda 2030 ma noi abbiamo degli obiettivi siamo nel 2021 ormai ma avevamo degli obiettivi da raggiungere nel 2020 sono 20 obiettivi su questa slide vedete rappresentati noi ne abbiamo raggiunti a questo livello nazionale soltanto soltanto quattro e quindi credo che da questo punto di vista c'è qualche qualche ritardo importante ma volevo farvi vedere un po' la slide riguardo all'Emilia-Romagna guardate un po' questi sono i primi sei gol e qui vedete il secondo anche qui sempre l'errore è il 2030 gli altri sei gol in Emilia-Romagna i progressi più evidenti in effetti interessano il gol 4 5 il 9 e il 12 nell'ambito dell'istruzione rispetto al 2010 aumentano le quote dei diplomati quindi questo è importante di laureati e di persone convolte nella formazione continua il tema della parità di genere migliora questa è un'altra importante notizia grazie all'incremento della partecipazione delle donne nel consiglio regionale più 14% rispetto al 2012 il progresso osservato nel campo della innovazione delle infrastrutture e funzione dell'aumento delle famiglie con connessione banda larga c'è stato un grande investimento intorno a questo più 32% di ricercatori 50% e della spesa per la ricerca e lo sviluppo che è aumentata di 0,6 i punti dal 2010 al 2018 quindi nell'ambito della produzione del consumo sostenibile e il miglioramento si deve all'aumento della raccolta differenziata più 19,6% e alla riduzione del conferimento dei rifiuti di scarica meno 17% quali sono invece i gol negativi? beh i gol negativi sono evidentemente il 1 il 6 e il 15 l'aumento della povertà relativa diminuisce l'efficienza delle reti idriche meno 5,1% dal 2012 al 2015 e si riduce la quota di famiglie che si fidano a bere acqua l'acqua del rubinetto meno 4,5% dal 2010 al 2019 mentre a determinare il perdono scusate ecco qua gioco un po' con a determinare il calo il calo del gol 15 e l'aumento della frammentazione del suolo più 2,8% ed è la copertura artificiale del suolo quindi la regione ha raggiunto il target sul rischio povertà e sull'occupazione e presenta andamenti assolutamente promettenti per quanto riguarda le coltivazioni biologiche la riduzione della mortalità per le maggiori cause l'abbandono scolastico i laureati la spesa per ricerca e sviluppo e la durata dei procedimenti civili diversamente si registrano significativi lontamente dai target sull'efficienza idrica la produzione di rifiuti in uso di fertilizzanti e l'offerta di trasporto pubblico la città metropolitana di Bologna invece qui è rappresentata vedete in una maniera un po' diversa abbiamo l'Emilia Romagna sempre non è 2020 e 2030 la distanza qui abbiamo fatto un po' questo esercizio sull'Emilia Romagna anche di rappresentare la distanza degli obiettivi quantitativi e sono quelli che appunto vi ho citato assunite prima la freccia in giù chiaramente c'è un allontanamento in su precisamente c'è un avvicinamento e le frecce in laterale possono essere in decrescita laterale e un aumento laterale breve periodo e lungo periodo ve le lascio come slide ma le trovate sul portale questo riguarda invece anche qui stesso ragionamento sull'Emilia Romagna sull'indicatore la città metropolitana ha già raggiunto due degli undici target previsti supera l'1.3% di percentuali per la quota di laureati prevista per il gol 4 e registra nel 2019 una quota di occupati di 5 punti percentuali superiori scusate al target relativo al gol 8 sono positivi come vedete anche gli andamenti di lungo e breve periodo evidenziati nell'ambito dei superamenti del valore limite giornaliero dei PM10 riguardanti il gol 11 per cui si registra una diminuzione tra il 2006 e il 2018 di 71,3 giorni di cui 3,6 tra il 2013 e il 2018 che determinano progressi moderati verso il target il target in questione contrastanti invece sono gli andamenti misurati per il rapporto di femminizzazione del tasso di occupazione riguardanti il gol 5 il tasso di feriti per incidente stradale il gol 3 lo so il tema il tema dei feriti per incidenti stradali per l'Emilia Romagna è un problema assolutamente grosso tutti non nessuno lo evidenzia ma è un problema estremamente estremamente serio il primo indicatore registra un trend negativo tra il 2004 e il 2019 ma non uno molto positivo nel breve periodo questo come dire velocemente è quello che voi troverete potete trovare dentro le nostre le slide le slide dentro ecco torno mi esco dalla condivisione questo è quello che potete trovare eccomi sono tornato in diretta e questo è quello che è rappresentato un po' nell'Emilia Romagna complessivamente è una regione assolutamente che sta lavorando in questo momento in questo orizzonte i dati sono estremamente significativi importanti la regione Emilia Romagna ha avviato un percorso per scrivere la sua strategia la sua strategia per lo tipo sostenibile in Emilia Romagna c'è un documento importante è un soggetto importante che è il patto per il lavoro per il clima per il lavoro che è un punto di riferimento fondamentale in questo percorso la città metropolitana ha avviato un percorso per costruire e elaborare la sua strategia di difficoltà sostenibile diciamo che l'Emilia Romagna nel suo complesso è una regione più avanzate anzi rispetto al cammino che si sta effettuando nel paese quindi da questo punto di vista siete mi permetto di dire in un ambiente estremamente importante ma ritorno a quello che ho detto prima a maggior ragione c'è una responsabilità che tutti quanti occorre esercitare rispetto a questo perché nulla è scontato ed è per questa ragione che abbiamo accompagnato abbiamo dato vita come ci ricordava mi ricordava prima Federico alla Emilia Romagna 2030 che è questa realtà territoriale che vuole un po' svolgere quello che ASVIS fa a livello nazionale quello di contribuire e portare queste esperienze di questi ragionamenti di portarli all'interno di una rete di confrontarli anche con le istituzioni in questo percorso che capite bene non è un percorso che nasce e muore qui ma sarà questo nuovo stile che dobbiamo tutti adottare anche per fare le politiche nelle nostre città e nelle nostre comunità grazie Gianni ti chiedo magari se prima della fine puoi condividere in chat il link del sito ASVIS dove possiamo trovare queste slide perché sono state chieste le fonti quindi magari così possono andare a vedersi bene tutta la ricerca e ora passiamo a Vanessa e Sara alle quali chiedo oltre se volete darci degli esempi concreti a livello europeo di avanguardia insomma per chi non l'avesse già fatto di voi e invito anche a riflettere sul Next Generation EU e cosa questi fondi che stanno arrivando dall'Europa possono significare per le vostre aree di competenza diciamo Vanessa inizia pure tu e poi passiamo a Sara Vanessa sentiamo male forse perché il microfono scusami non avevo tirato mi ero un attimo distratta dicevo che gli esempi virtuosi sono proprio quelli italiani come dicevo prima nel contesto dell'Unione Europea per quanto riguarda invece Next Generation Europe allora teniamo a mente che l'Europa lo scorso luglio ha varato altre due strategie molto importanti dal punto di vista dell'energia e della sostenibilità che sono la strategia per l'integrazione del sistema energetico e la strategia idrogeno su cui potremmo aprire una nuova conferenza ma la strategia sull'integrazione per l'integrazione del sistema energetico appunto non è altro che una nuova agenda di investimenti che si pone in linea appunto sia con Next Generation Europe che con il Green Deal europeo e si muove lungo tre direttive principalmente quindi sulla implementazione di un sistema energetico circolare l'avevo già accennato prima dobbiamo sempre più iniziare a pensare in termini di non spreco neppure energetico quindi dobbiamo cercare di riutilizzare anche il calore di scarto degli impianti industriali di riutilizzare tutti i prodotti di scarto dei rifiuti organici quindi come già accennavo prima iniziare a pensare non solo all'energia prodotta da fonte fotovoltaica o eolica ma anche soprattutto a fonti da biomasse a fonti da gas residuati da processi industriali biogas biometano sono tutte fonti che vengono prodotti da scarti essenzialmente quindi sia scarti dell'agricoltura scarti organici scarti animali in questo modo riusciamo ad integrarci in un sistema circolare energetico un'altra direttiva lungo cui si muove la strategia per l'integrazione energetica è l'elettrificazione quindi dovremmo iniziare a pensare appunto ad utilizzare ad utilizzare la forma la fonte elettrica come fonte di approvigionamento energetico per tutto anche per i calori per i caloriferi per il calore per tutto quello di cui c'è bisogno quindi ancora una volta le associazioni gli enti territoriali dovrebbero ecco quando parliamo di implementazione delle direttive delle forme energetiche sostenibili rinnovabili si parte appunto dalle piccole cose non più installazione di grandi caldaie anche nelle scuole nei centri sportivi di grandi caldaie a gas o a combustibili fossili elettricità è chiaro che è tutto un circolo potrebbe costare di più ma se l'elettricità viene prodotta in maniera integrata sostenibile da fonte rinnovabile di sicuro è più pulita è un'energia green che ci aiuta a raggiungere comunque l'abbattimento delle emissioni i target di abbattimento delle emissioni l'altro il terzo punto è poi quello appunto dei combustibili puliti quello che stavamo dicendo e lì si intersega con l'idrogeno energia idrogeno chissà se effettivamente riusciremo ci sono stati targettati degli obiettivi molto molto challenging per l'installazione di questi grandi elettrolizzatori che siano in grado di ritrasformare l'energia in eccesso soprattutto energia pulita quindi energia prodotta da fonti rinnovabili trasformarla in idrogeno questo idrogeno potrebbe essere utilizzato sia per alimentare veicoli sia per soddisfare le domande proprio di approvvigionamento di calore quindi potrebbe essere immesso anche nelle reti gas e anche i distributori e i TSO si stanno muovendo appunto per riconvertire le reti per ritornare alla domanda iniziale all'interno di tutta questa strategia cosa dobbiamo fare? Beh io ho guardato la bozza di da ultimo circolata del PNNR del piano nazionale di resilienza e di riprese e resilienza effettivamente ci sono se tenete conto che dei 196 miliardi di euro che sono stati stanziati 74,3 sono stanziate appunto la materia energetica quindi abbattimento delle emissioni e sostenibilità e energia pulita è una percentuale veramente importante saremo su su 37,38% dei fondi quindi bisognerà poi il punto di domanda è come verranno utilizzati questi fondi saremo in grado di riconvertire le reti di fare delle di rendere le nostre reti di distribuzione smart di rendere le nostre reti di distribuzione compatibili con una rete di approvvigionamento anche di veicoli elettrici di veicoli a idrogeno soprattutto la questione con cui io mi raffronto più spesso da legale è il problema autorizzativo cioè ci sono grandi proclami grandi stanziamenti di fondi che poi mal si conciliano con dei literi autorizzativi veramente troppo lunghi quindi installare anche un fotovoltaico un eolico diventa un'impresa impossibile in cui si innestano poi varie varie competenze e vari poteri che vengono esercitati più o meno più o meno in maniera trasparente da parte degli enti locali ai vari livelli quindi effettivamente ci sono dei forti stalli dei forti ostacoli a livello autorizzativo ostacoli per gli investitori nel settore energetico che mal ci fanno sperare che questi target vengano raggiunti ma se le cose vengono cambiate se effettivamente viene attuata una semplificazione che sia effettivamente semplificazione l'ultimo decreto c'era solo nel titolo la semplificazione ma appunto dovremmo prima intervenire su sull'iter autorizzativi sugli incentivi sui vari poteri sulle competenze su tutto il sistema regionale e locale e appunto sperare che questi target che sono stati settati sia nel Next Generation Europe sia nel PNNR vengano effettivamente raggiunti grazie Vanessa qui c'è la grande questione della governance che diceva anche Gianni che penso sia sarà veramente cruciale insomma da seguire nei prossimi mesi Sara ti do la parola e ti chiedo di essere breve perché non vorrei togliere spazio al dibattito poi insomma gli spunti che arrivano dagli altri prego parlando di risorse idriche ci vorrei soltanto dire qualche cosa allora innanzitutto il fatto che l'Unione Europea si è già mossa e già si sta muovendo proprio per dare una linea un sentiero comune per tutti gli stati che come abbiamo visto prima si trovano a vivere delle dinamiche molto eterogenee all'interno possiamo riconoscere tre direttive che sono diciamo le pietre fondanti di questa di questa di questa materia che sono una direttiva a quadro sulle acque del 2000 che si occupa di introdurre il concetto di integrazione quindi si dividono i bacini idrografici che sono di fatto il sistema fluviale quindi dalla sorgente piccoli attuenti fino all'estuario vengono divisi in distretti fluviali e questi distretti fluviali non sempre sono all'interno della stessa nazione ma attraversano diversi confini quindi imponendo ecco una gestione integrata e comune dell'acqua un'altra direttiva è la direttiva sulle acque reflui urbane che si occupa appunto di garantire che l'acqua che viene restituita in natura venga adeguatamente depurata in modo da poterla riutilizzare in un contesto di crescente urbanizzazione fondamentale per poter avere appunto dell'acqua pulita sempre e la terza è la direttiva sull'acqua potabile che è estremamente importante anche perché proprio recentemente qualche giorno fa è uscita la nuova direttiva sull'acqua potabile che si occupa appunto di garantire l'acqua potabile per tutti ed è molto importante perché ad oggi in Italia parliamo circa il 30% delle persone non si fide a bere l'acqua del rubinetto quindi anche in un'ottica di riduzione dei rifiuti di plastica è fondamentale che la popolazione abbia un'acqua di buona qualità appunto disponibile anche in casa per quanto riguarda poi degli esempi virtuosi ce ne sono tantissimi in Italia farò soltanto due esempi per non sforare con i tempi e citerò in particolare a citare la città metropolitana di Bologna che è sempre diciamo si tende sempre a non considerare l'Italia come uno stato che sa fare ma in realtà ci sono degli esempi molto molto positivi la città di Bologna è fisiologicamente povera d'acqua perché sorge il reno non è assolutamente sufficiente per soddisfare il fabbisogno di Bologna pertanto tramite enormi infrastrutture tra cui riconosciamo il CER il canale Emiliano Romagnolo o il canale di Bologna si è riuscito a convogliere l'acqua dal Po quindi questo richiede un grande investimento in efficienza inoltre ci sono tantissimi investimenti per il riuso e il recupero idrico riconosciamo ad esempio all'interno di questo il progetto Blue Up con cui proprio la città di Bologna ha avviato un piano di adattamento ai cambiamenti climatici un altro esempio diverso è invece Rotterdam che ho pensato a questo esempio perché vive proprio la situazione opposta perché Rotterdam soffre del rischio di alluvione perché è costruita sotto a livello del mare in questo caso Rotterdam ha scelto un altro diciamo l'emblema dell'urbanizzazione della resilienza perché la città cambia in base alle piogge perché proprio esistono delle water square ossia delle proprie piazze d'acqua che vengono create ad hoc con banchini di contenimento nei casi di precipitazioni violente che fanno anche cambiare proprio la come pare la città in caso di acqua e per quanto riguarda poi tornando alla tua domanda come possono essere utili i nuovi fondi stanziati dall'Europa beh assolutamente questo c'è una buonissima notizia una percentuale molto elevata la più alta nella storia è completamente dedicata alla lotta contro il cambiamento climatico quindi sicuramente le città dovranno adottare degli investimenti che siano in vista dell'innovazione e con effetti a lungo termine bisogna uscire dall'ottica dell'investimento soltanto per il post disastro soltanto quando avviene un evento estremo sappiamo che gli eventi estremi stanno succedendo e succederanno e le città devono agire in un'ottica di lungo termine quindi imparando dal punto di vista idrico a riutilizzare l'acqua recentemente una direttiva europea lo permette per esempio per scopo di irrigazione e adesso è possibile riutilizzare le acque più vane è fondamentale capire che l'acqua non c'è sempre l'acqua può esserci a volte ce n'è troppa a volte ce n'è troppo poca bisogna fare tesoro di quella che c'è e ovviamente agire in un'ottica di cambiamento climatico proteggendo l'acqua non esclude tutto il resto quindi anche in un'ottica di integrazione investimenti proprio da questo punto di vista sono fondamentali grazie mille Sara e allora direi di aprire il dibattito e per aprire il dibattito abbiamo un ospite d'eccezione che è Martina comparele di Fridays for Future lei è portavoce di Fridays Milano e nazionale e Martina corregimi se sbaglio è anche laureata in sviluppo internazionale siamo ancora dei portavoce a dir la verità siamo un movimento orizzontale quindi sono qua in rappresentanza però sono un attivista grazie a tutti e sì tra l'altro insomma per sottolineare la tua importanza sei una delle attiviste che è andata insieme a Greta Thunberg a parlare con il presidente Conte giusto a ottobre e insomma ti lascio subito la parola se vuoi insomma fare una piccola introduzione anche sul vostro ruolo e poi se hai domande per i nostri ospiti e prego insomma grazie mille allora il nostro ruolo noi siamo degli attivisti chiaramente e semplicemente quello che facciamo è chiedere ai nostri leader di ascoltare la scienza un altro dei nostri principi che secondo me si lega molto agli argomenti di oggi è think global act local quindi è molto importante proprio a noi che partiamo proprio per noi che partiamo da gruppi locali e poi ci riuniamo in assemblee nazionali e internazionali partire proprio dai territori ed è ed è tutto ho sentito tante cose interessanti oggi ad esempio Vanessa parlava del decentramento ed è una cosa su cui in realtà dovremmo fare affidamento passare al mixed land use contro la zonizzazione ci aiuta per esempio in cose molto semplici andare a ridurre per esempio il traffico urbano che è un problema anche di salute e non solo di emissioni un'altra soluzione che per esempio a Milano vediamo molto adottata ma proprio dalla società civile sono i gas i gruppi di acquisto solidale e questo aiuta anche a creare una connessione città-campagna noi parliamo di città però le campagne non vanno dimenticate un approccio che a livello proprio internazionale stiamo stiamo prendendo e cerchiamo di dargli molta attenzione perché è anche un approccio di giustizia climatica che è un altro dei nostri grandi principi che non è altro che la giustizia sociale che viene sempre più intaccata dalla crisi climatica ad esempio noi sappiamo che ogni anno si perdono un terzo dei contadini nel senso che escono dal mercato dell'agricoltura perché vengono tra virgolette mangiati dai pesci più grossi dall'azienda agricole e a livello europeo questa cosa viene senza dubbio influenzata dalla politica agricola comune su cui stiamo lavorando tanto sia in Italia che in Europa infatti ieri abbiamo incontrato il direttore generale Berscher ed è problematico perché nonostante ci sia una commissione dal punto di vista climatico abbastanza ambiziosa abbiamo un Parlamento e un Consiglio che tendono a inacquare le proposte della commissione e proprio per questo sulla PAC è un problema come un problema per esempio tutta la serie di obiettivi europei di riduzione delle emissioni nel momento in cui si dice raggiungere ridurre il 55% delle emissioni net zero è un problema perché questo net vuol dire che includiamo un fantomatico strumento di assorbimento delle emissioni che non c'è in questo caso il tema dell'Emilia Romagna è particolarmente connesso perché si parla di CCS in Emilia Romagna del centro di stoccaggio dell'anidride che stanno cercando che Eni vuole costruire a Ravenna una tecnologia che non è su cui la scienza non è ancora d'accordo che non è stata ben studiata ancora che rischia di aumentare il rischio sismico che assorbe pochissima CO2 rispetto a quella che dovremmo assorbire quindi rimane proprio l'unica soluzione è ridurre le emissioni e le comunità energetiche in realtà potrebbe essere un'ottima soluzione per ridurre le emissioni e creare una nuova visione di società una nuova connessione che potrebbe non solo aiutarci a sconfiggere la crisi climatica ma costruire un mondo diverso per quanto riguarda le città bisogna pensare anche al fatto che di base consumano il 75% di tutte le risorse naturali quindi su questo la mia domanda è come si può riconnettere le città alle campagne e in questo in questo frangente potrebbe essere interessante pensare allo smart working che ci aiuta per esempio a ripopolare i borghi ma come riuscire per esempio a dare a questo smart working un aspetto di giustizia lavorativa perché non ci sono ancora dei diritti dei lavoratori specifici sui smart working quindi da questo punto di vista mi piacerebbe sapere l'opinione degli esperti che hanno parlato oggi e soprattutto come come attivare la transizione ecologica attraverso il famoso protagonismo di territori a me per esempio viene in mente la soluzione di una soluzione molto semplice per l'ILVA che è la riconversione energetica ed ecologica senza dover chiudere ma riconvertirla per migliorare la salute dei cittadini e allo stesso tempo non togliere pozzi di lavoro quindi a parte le comunità energetiche ma quali altri quali altri tipi di connessione potreste secondo voi trovare tra le campagne che in Italia soffriranno anche per la desertificazione e le città grazie Martina e se volete riprendiamo l'ordine non so se qualcuno di voi vuole parlare subito ovviamente prego se no Gianni se vuoi fare dirci se avete riflettuto un po' sullo smart working e su come connettere città e campagna insomma mi sembra vorrei essere rispettoso hai dato sempre la parola prima di me ma ci sono delle signore prima e non voglio mica se vogliono prima parlare facciamo parlare un attimo prima le signore anche perché io lo dico subito io non sono un esperto sono un umile servo nella vigna del signore a fare questo mestiere le esperte sono Sara e Vanessa che prima hanno parlato Martina io poi lo spiegherò faccio alcune cose ma gravirei sentire queste giovani ricercatrici che ci stanno dando anche l'anima rispetto a questo e quindi diranno delle cose più interessanti quello che posso dire io in questo momento prego ok allora direi di invertire l'ordine partiamo da Sara poi Vanessa e poi Gianni prego Sara mi trovi totalmente d'accordo per quanto riguarda lo smart working c'è ci sono da considerare tantissimi fattori che purtroppo in un momento di emergenza vengono purtroppo messi in secondo piano non ci sono dopo la punizione del diritto del lavoro la disciplina che poi è utilizzata proprio per gestire e regolamentare questo tipo di lavoro ancora non è chiaro ora io nel mio ambito però informandomi un po' è chiaro che lo smart working ad oggi viene visto solamente come una risposta all'emergenza ma non come qualcosa che potrebbe essere visto a lungo termine infatti proprio nella parte iniziale del mio intervento dicevo che sì l'urbanizzazione è un trend ma sicuramente il covid avrà messo in discussione in modo e in più quantità ancora non lo sappiamo proprio perché ora come ora tantissime persone si trovano in un contesto di si trovano immobili e non sapere come scegliere ad esempio io ho una casa in una grande città la posso lasciare è sicuro che poi una volta che questa emergenza passerà potrò continuare a lavorare da casa quindi sicuramente sarebbe dal mio punto di vista fondamentale riuscire a garantire una continuità nello smart working che ci siamo resi conto essere una modalità lavorativa perfettamente che si concilia perfettamente con anche la riduzione della pressione nel traffico urbano nello strecco di tempi e per quanto riguarda poi l'utilizzare anche l'uscire proprio da un'ottica di pura urbanizzazione quindi di vita in città sia fondamentale l'investimento nel diciamo nei mezzi pubblici nelle viabilità abbiamo siamo in possesso di tantissima tecnologia innovazione che ci permetterebbe di avere spostamenti molto brevi e molto efficienti e che dal mio punto di vista non viene pienamente sfruttata questo chiaramente pone a capo delle città tantissima pressione perché garantire il fabbisogno di una popolazione limitata è un conto garantire il fabbisogno di ad esempio in Bologna 300.000 abitanti è tutto un altro discorso ovviamente richiede un altro tipo di impegno un altro tipo di stress anche a capo dell'ambiente stesso grazie Sara vai Vanessa sì allora mi sono segnata degli spunti che mi venivano in mente allora innanzitutto prima della pandemia lo smart working almeno in Italia non è che fosse molto ben visto si aveva sempre un po' questa credenza illusoria che se uno resta a casa fa poco e niente la pandemia ci ha costretti a capire che non è così anzi almeno per quanto mi riguarda ho visto anche i miei colleghi i miei amici che hanno lavorato anche io in prima persona molto di più essendo in smart working e non andando in studio o in ufficio perché si è direttamente comodi a casa perché non ci sono i tempi di spostamento perché si è più comodi e si può gestire il lavoro meglio io ti posso dire Martina che per esempio noi come studio a seguito della prima ondata di pandemia abbiamo visto implementare da Londra una politica di 60-40 quindi di post pandemia che poi si è rivelato essere un inframezzo tra le due ondate di pandemia ci ha fatto capire che effettivamente possiamo stare al 60% in studio il 40% a casa senza far venire meno negli interessi dello stare insieme e del lavorare come team e né quelli del poter lavorare comodamente da casa io personalmente ho apprezzato molto questa cosa perché pur vivendo da molti anni a Milano io sono originaria di Matera della Basilicata e quindi lo smart working qualora diventasse una pratica diffusa e normalizzata servirebbe anche a tanti che sono nelle grandi città per lavorare perché ci sono trasferite a giovani di poter ritornare dalle famiglie e ritornare dalle famiglie significa appunto ritornare in centri più piccoli vicini alle campagne di poter spendere soprattutto in quei centri perché se io vado più spesso in centri più piccoli che può essere quel mio centro d'origine o un centro in cui intendo passare due giorni fuori dalla città spendo in quella città quindi in qualche modo collaboro e coopero e sostengo l'economia di quel piccolo centro di quel territorio però il rovescio della medaglia è appunto che lo smart working secondo me aumenta ancora di più una sorta di individualismo che è già molto pregnante nelle persone e negli individui di oggi lavorare in team molto spesso lo stare insieme ci aiuta anche molto di più a lavorare in team in termini di condivisione di idee di esperienze di vita di giornate vissute insieme invece se lavoriamo tutti da casa è innegabile che si diventa un po' tutti degli automi abituati a lavorare da soli a presentare il piatto pronto quando è finito senza tener conto magari delle idee degli altri e appunto non saper più lavorare come squadra dal punto di vista della sostenibilità lo smart working se da un lato ci dà la possibilità di ritornare ai piccoli centri quindi di scappare dalla città dall'altro canto però ci pone dinnanzi a delle sfide di non sostenibilità da un punto di vista economico perché se i grandi uffici se i grandi studi mettono in campo dei progetti di efficientamento energetico e di sostenibilità ad un certo punto lo sappiamo si aspettano anche dei ritorni di questi investimenti e quindi se la gente non è in studio non è in ufficio questi progetti alla fine si rivelano essere destinati a qualcuno che poi nella pratica non li utilizza quindi ci potrebbero essere ecco ci potrebbero essere delle spinte a non implementare dei progetti sostenibili o delle delle forme di energia sostenibile di adeguamento anche di welfare non solo sostenibilità da un punto di vista appunto energetico e climatico ma anche di servizi sociali alla persona ma se l'azienda non ha interesse a tenere in piedi l'ufficio per cento persone costantemente non è neanche disposta ad investire in termini di denaro per soddisfare questi bisogni che possono essere dei singoli o della comunità senza parlare poi di tutto quello di cui dicevi tu prima che appunto non abbiamo una concreta rete normativa per il sostegno dello smart working cioè una forma di lavoro che prima era solo nei libri nei test universitari che adesso ci stiamo rendendo conto che ha molti limiti e molte pecche perché le situazioni non sono correttamente tutelate non sono correttamente analizzate nemmeno grazie Vanessa allora stiamo andando lunghi con i tempi che tra 5 minuti inizia la sessione prossima e Gianni se vuoi concludere una battuta semplicemente una battuta avete visto avevo ragione io abbiamo sentito delle cose molto interessanti da persone molto giovani io dico una cosa a Martina Martina tu hai incontrato Conte adesso spero che tu puoi non so cosa succederà incontrerai il prossimo presidente del consiglio e te lo auguro di cuore io quello il consiglio l'invito che do a tutti è semplicemente questo noi a differenza di altre fasi della storia abbiamo ormai tutta una serie di proposte di idee da mettere in campo quello che manca è come dire ciò che unifica rispetto a questo cioè non possiamo andare avanti con tante buone pratiche tante buone idee dobbiamo inserire dentro il cosiddetto concetto delle politiche qui io ho sempre manca una siglione di futuro per costruire un piano strategico noi abbiamo bisogno era quello che si spingeva di costruire un piano strategico che ha una visione di futuro rispetto a questo che vuol dire un lavoro che cambia come dicevi tu che vuol dire anche un'industria che cambia noi abbiamo bisogno di mettere tutte le nostre buone pratiche che abbiamo tanto decantate in una logica però di politiche altrimenti rimangono tante cose frammentate quindi da questo punto di vista io credo che il lavoro anche qui che possiamo fare e qui ci sono degli amici che hanno organizzato che fanno anche voglio dire su questo anche la politica le proposte eccetera da questo punto di vista un po' questo contribuire a cercare di mettere insieme tutte queste belle buone pratiche queste buone idee queste buone riflessioni che oggi ci sono perché lasciate così muoiono lì messe come dire in un piano in un'idea complessiva di paese è importante chiudo semplicemente con la sfida che ci piaccia o no qualsiasi appartenenza politica possiamo avere una cosa è certa noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro modello di sviluppo questa è l'unica certezza che abbiamo dopo possiamo confortarci come la vogliamo da una parte o dall'altra ma pensare di fare e di essere quello che siamo stati fino a qualche tempo fa è l'errore madornale che possiamo fare a questo paese a questo pianeta ed è qui la vera battaglia consiglia politica che dobbiamo condurre grazie grazie mille Gianni una perfetta conclusione direi e niente siamo fuori tempo quindi io vi ringrazio veramente a tutti e a tutte e lascio la parola a Marco che ci introduce la prossima sessione